In piazza del municipio, accanto all'ingresso dei servizi sociali di Palazzo Saglio, si è tenuta la cerimonia di intitolazione dell'area verde a Fabrizio Quattrocchi, medaglia d'oro al valore civile, nell'anniversario della morte. Presenti della cerimonia l'assessore Pietro Trivi, l'onorevole consigliera comunale Paola Chiesa e le autorità civili e militari. Ma via non dimentica Fabrizio Quattrocchi, barbaramente ucciso da terroristi islamici. Fabrizio Quattrocchi è stato insignito nel 2006 dal Presidente della Repubblica della medaglia d'oro al valore civile, grazie, con la seguente motivazione. Vittima di un brutale attentato terroristico rivolto contro l'Italia, con eccezionale coraggio ed esemplare amor di patria, affrontava la barbara esecuzione, tenendo alto il prestigio e l'onore del suo Paese. 14 aprile 2004. Io non ho mai dimenticato le parole prima di morire di Fabrizio Quattrocchi, vi faccio vedere come muore un italiano. Parole che devono essere monito esempio per tutti noi e per le nuove generazioni. E' questo che mi ha spinto un anno fa a chiedere al Consiglio Comunale di Pavia, con un ordine del giorno, di intitolare un'aria verde proprio Fabrizio Quattrocchi, simbolo di una nazione, la nostra l'Italia, fiera, di una nazione orgogliosa, di una nazione coraggiosa, di una nazione che non piega la terra di fronte a nemico. Grazie quindi al Sindaco Fabrizio Fracassi che non è potuto essere qui con noi oggi e lascio la parola all'assessore Trivi in sua rappresentanza. E' stata una persona Fabrizio Quattrocchi che sicuramente rappresenta l'Italia e come diceva giustamente l'onorevole Paola Chiesa deve essere da monito per tutti noi italiani, per chi ama l'Italia, per chi è attaccato ai valori della patria come lo siamo noi. Fabrizio Quattrocchi non ha abbassato la testa, anzi l'ha alzata, ha tolto il cappuccio, ha voluto vedere negli occhi chi erano i suoi carnefici e ha rappresentato un modo di morire da eroe come probabilmente pochi in Italia e pochi nel mondo. Lui ha fatto l'eroe, l'ha fatto pronunciando il nome dell'Italia e il nome degli italiani. Mi unisco alla PEP che ha fatto l'onorevole Paola Chiesa, deve essere sicuramente da monito, deve rimanere come monito e questa tarca che abbiamo posto su questo giardino ha perenne ricordo della figura di Fabrizio Quattrocchi. Sicuramente deve essere un esempio, deve essere onorata da tutti quelli che passano qui davanti al palazzo municipale, il palazzo più importante della nostra città. Credo che abbiamo fatto una bella cosa da cogliere come consiglio comunale, come amministrazione comunale la proposta di intitolare questi giardini.